Buonasera, mi scuso se sono costretto a farvi vedere questo video con la mia faccia che ovviamente è sempre un po' più disperata ma di necessità bisogna far virtù, tanto ma la gatta all'ardo ci lascio lo zampino eccetera eccetera, non c'è niente, ma è ovvio che io faccio tra le varie, cioè io ho dieci ore, ribadisco, ma dieci ore veramente mi stanno strette perché dieci ore devo fare italiano, storia, geografia, italiano, centologia, letteratura, e grammatica, poi c'è storia, geografia, quattro ore sono storia di storia, geografia, quindi in realtà si vedete il mio brutto muso per dieci ore ma c'è un motivo, la preside vi voglia particolarmente male, vi ha inflitto dieci ore di venturini rispetto ad altri professori più simpatici di me, no, perché ho tre materie, tre materie vuol dire che è come se fossi, sarebbe blasfemo dire un ettrino, però il concetto è quello, quindi soprattutto l'antologia è un po' la scenerentola delle mie materie, perché è messa, ovviamente l'ho messa nelle ore un pochino meno, un pochino meno, forse dovrebbero mettere un pochino meno impegnative, però tra i cambi d'ora, trano terra, terzo piano, dieci minuti partono per il cambio d'ora, dieci minuti per la ricreazione, e trigger e tracker e poi alla fine spiegare bene alcun poeta come il Rizos diventa un po' complicato, insomma va bene essere laconici, perché il Rizos era spartano, era laconico, ma troppo laconici non ci si capisce niente, comunque vi ho lasciato gli appunti su Classroom, e dicevo quindi l'antologia è un po' la, anche perché voi, voi considerate, diciamoci la verità, considerate questa materia un po' l'ascenerento delle materie, nel senso che io se facessero nipparei delle materie, credo che l'antologia sarebbe cenerenta, c'è quella sorellina minore che gioca da sola, quindi quasi l'antologia, c'è questa roba che non se sa che è, ma che se fate un po' non se sa, in realtà la scuola italiana educa con il metodo cani di Pavlov, che è un metodo interessante di educare le persone, l'antologia di Pavlov è molto semplice, Pavlov era un studioso della mente umana russo e appunto applicava, aveva capito che molte delle reazioni, reazioni e azioni e reazioni sia dei cani ma anche dei uomini sono riflessi condizionali, e di solito questi riflessi condizionali vengono attivati da due cose, il piacere e il dolore, quindi di solito Pavlov aveva fatto questo esperimento del campanello, che associava, perché ne so, una scossa elettrica a un campanello, e questi cani appena sentivano il campanello, anche se non c'era la scherzellottica, scappavano, oppure associava due suoni di campanello alla ciotola di piede di cibo, quindi questi cani quando sentivano due suoni di campanello, anche se non c'era il cibo, cominciavano a scodinzolare allegramente perché nella mente, ed è quello che ultimamente succede anche con la pubblicità, i sistemi di Pavlov funzionano, e nel bene e nel male funzionano anche nella scuola, perché il piacere è il voto che ovviamente vi viene dato, se prendete un bel voto siete tutti contenti, se prendete un cattivo voto ovviamente eccetera eccetera, quindi si viaggia sempre tra piacere e dolore, paura e ricompensa, però l'insegnamento e l'apprendimento dovrebbero superare questa cosa, e a volte non la superiamo, e vabbè, no non so, cioè questo è lo scopo della scuola dell'apprendimento, superare il, cioè è ovvio che dovete fare i compiti, portare i divi, però si dovrebbe arrivare a un punto in cui uno impara per il piacere suo, senza che ci abbia più il campanellino eccetera eccetera, ma questa è un'altra storia. Quindi Giannis Rizzo, che ovviamente è uno dei più grandi, poi è tigresci moderni, è nato nel 1909, a Monenvasia, Monenvasia, non pretenderò che in Grecia, nella Laconia, la parte occidentale della Grecia, dove avevano gli spartani, gli atridi, i miceni, quelle cose lì che se vi ricordate, il mito greco. Abbiamo fatto Giannis Rizzo, sa anche perché, perché l'abbiamo fatto Giannis Rizzo, perché io sono di origine greca, quindi me lo beccate, sì, anche questo, poi c'è la R come il mio nome, quindi no, non è solo questo ovviamente. È il tentativo di farvi conoscere nomi e poeti, anche letterati, un po' fuori dallo schema comune, insomma, dalle antologie. Io le antologie non mi trovo molto spesso d'accordo. Rizzo è morto nel 1990 e ha vissuto una vita, cioè, proprio i greci hanno questa cosa della tragicità, ecco, se voi leggete le tragedie greche, che sono sopravvissute solo una minima parte, 7 di Esco, 7 di Oripide e una ventina di Sofoco, no, 7 di Esco, 7 di Sofoco e una ventina di Oripide, ma ce ne erano centinaia e tutte vanno a parare su argomenti come il cannibalismo, l'incesto, fratelli che si scandano, Eteo che pulinisce, cioè, tutte cose allegre, Filippo, l'incesto, gli atridi, poi, è una famiglia che non si sa cosa non hanno fatto, gli atridi, dal cannibalismo, tutto hanno fatto, non c'è niente, cioè, uno prende gli atridi, cosa non hanno fatto gli atridi, non si sa, inizia tanto con il che tenta di dare il figlio pelo per come arrivano gli dèi, cosa gli prepara gli dèi, ma mio figlio, arrosto, e niente, inizia poi con gli atridi, tutta una storia che è uno che, i film dell'orrore moderno in confronto a tragedia greca, ma sono delle cose per passare tempo, per bambini, e quindi c'è un senso di tragicità di Grecia, il tragico, il senso dell'incompere di qualcosa, di qualcosa che viene dal passato, che comunque sta dietro di te, che ti sta lì come le rinni, che ti guardano e ti dice, sei figlio di quello? Eh, ma io non mi ricordo che ha fatto nonno, ma tu sei figlio di Atridi? Vabbè, nonno, ma non ce l'ho io, sì, ma in Grecia vale il principio che le colpe dei padri ricadono sui figli, cioè, appena nato, sei fregato, sei proprio fregato subito, lì ha appena fatto uè, e c'è tutta la lista, arriva sulle linee, il tuo nonno ha fatto uè, sì, ma io sono un bambino, in Grecia funzionava così. e il Rizos che è nato e nacque da una ricca famiglia di possidenti terrieri della Laconia, del Peloponneso, vicino a Sparta, il padre alcolizzato e giocatore, la madre morirà di tubercolosi quando ha 42 anni, la madre, il padre manderà in rovina tutto il patrimonio, e quindi, vita allegra, insomma, e però questo uomo, che per me è il più grande poeta greco, anche superiore a Cavafis, sebbene Cavafis a livello internazionale sia più famoso, però le poesie di Rizos, che ha scritto tantissimo, tra l'altro, sono veramente belle, perché questo uomo ha attraversato dal 1909 al 90 i periodi più brutti della Grecia, negli anni 20 c'è l'immane esodo dei greci dalla Turchia, perché la Turchia, c'è la guerra tra i greci e i turchi, la Turchia vince, e quindi, cata turca, mi sembra ci sia lui, e tutti questi greci che devono scappare dall'Asia Mino della Turchia si riversano verso la Tere, quindi è un periodo di affollamento, di caos, eccetera, lui arriva da Tere negli anni 20, si dedica anche, è anche ballerino, attore, eccetera, eccetera, indicato, eccetera, deve sbarcare in umana, ma questa la tubercolosi un po' lo vacilla, cioè, il tubercoloso è una malattia già una malattia brutta se sei ricco, se sei povero è ancora più brutta, ma in Rizzo c'è un avitalismo che è quello poetico, che lo, gli permetterà di superare prove che a qualsiasi altra persona sarebbero state fatali, cioè, perché quello che ha superato lui con la poesia, quello che lui con la poesia ha superato è inimmaginabile per voi, nel senso che arriva ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, ma il problema è anche a parte degli italiani che vanno a spezzare le regne alla Grecia e che poi si spezzano loro perché i greci combattevano contro i turchi da secoli, quindi, per spezzare le regne a un greco se ne vuole che l'italiano non sa neanche cosa vuol dire combattere per secoli contro i turchi che non erano proprio dei, quindi, nelle montagne della Grecia gli italiani se ne spezzano loro, però, quando finisce la guerra il Partito Comunista Greco è molto forte, quindi, Churchill che teme una vittoria del Partito Comunista appoggiano le potenze occidentali e una una parte liberale, ma anche la parte un po' più fascista perché i fascisti italiani non andavano bene però andavano bene i fascisti greci locali che andavano bene e quindi quel partito di estrema destra che poi sfocerà negli anni 60 nel regime dei colonnelli. Nel 49 Rizzo subisce la sua prima grande deportazione a Macronissos Macronissos o Macronissos che dice, l'isola dell'inferno dell'isola dell'inferno non saprei neanche come chiamarla quest'isola Macronissos perché ovviamente i sistemi di deportazione fascista anche fascisti non erano fascisti nazisti erano fascisti che li portavano in qualche isola sperduta se guardate la cartina greca lì c'è anche Mykonos e queste belle isole creta però c'è anche delle isolette tutti saturn piene di sassi dove scaricavano questi disgraziati senza con poca acqua poco scivo e vivere come bestie come animali e Macronissos è il primo grande incontro contro l'orrore e torture pestaggi quello che è successo in quell'isola credo che non è interessata molto l'Europa perché l'Europa ha altre cose potenziali ma sono successi degli orrori mostruosi le stesse isole in cui ora sono abbassati i profumi siriani sono isole un po' maledette tendenzialmente torture pestaggi servivano a far firmare la biura del partito comunista perché Mervizos era iscritto al partito comunista sicuro venendo da una famiglia aristocratica poco come Lugino Viscotti ma Lugino Viscotti ebbe una vita comunque la tubercolosi è tutto fino a che farà liberato da Macronissos e rinisterà tornerà in Grecia negli anni 50 sempre tra il limite tra la malattia e la guarigione però come lo diciamo in classe sono sempre di quelle persone sempre quelli malaticci che sono sempre malaticci ma che proprio perché sono malaticci ormai con la malattia hanno fatto una sorta di patto e quindi non muoiono mai nel senso che magari quello sano come robusto come un tor ti schianta improvvisamente un giornalamento quello malaticcio è sempre lì e non gli succedeva niente non è finita qui perché nel 67 di nuovo sono varie vicende storiche della Grecia moderna contemporanea che sono del tutto ignorate dai non greci sia Macronissos che Arnizos si salva con la poesia con scrivere poesie e infilarsi in quest'isola prendere un pacchetto di sigarette un pacchetto di medicina e scrivere la poesia e nasconde la mia poesia come come senso della vita cioè in un mondo caotico nel senso il lato dionisiamo della vita il lato mostruoso anche della vita si cerca un lato apollinio che qualcosa che dia un senso al non senso qualcosa che dia un senso alla a quello che accade anche oggi scusate Macronisos è un simbolo che ne succede quello che è sconvolgente di Macronisos che nel 49 questo è accaduto a ridosso dei campi di sterminio cioè quando i greci i fascisti greci facevano queste cose a Macronisos era da poco finito il concetto ma nessuno sentì in particolare sdindignazione ma non finiva Macronisos perché negli anni 60 i colonnelli il colpo di Siano la monarchia ma un nuovo colpo di Stato riporta i famosi colonnelli greci con l'appoggio tacito dell'Occidente la Grecia diventa una repubblica delle banane insomma un po' come lo Stato sudamericano e il Rizzo si ritrova un'altra volta un'altra volta sbattuto in un'isola cioè ripetita è qualcosa di incredibile la vita di Rizzo e tutto questo e si ritrova lì malato malaticcio e ricomincia a dipingere sassi 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 in Grecia come disse un mio amico quando andò in Grecia tornato a Montepulciano e gli dissero com'è la Grecia e questo amico disse una frase che rimase storica a Montepulciano si guardò intorno e disse la Grecia è una gran pietaria e mai definizione fu più perché è proprio pietre sassi pietre sassi pietre sassi ogni tanto sbuca qualche olivo timido e queste sono le pietre dipinte da Rizzo che si era anche sposato la figlia è insomma la curatrice perché da giovane aveva disfunnato un po' forte dipingeva insomma Rizzo sia una figura complessa e dopo siccome Rizzo in Francia era negli anni 60 considerato un grandissimo poeta mentre in Italia questa è una edizione italiana negli anni 70 credo della Newton Compton del 78 è una edizione un po' scarcagnata però gesti testo greco a fronte poesia e gesti è una poeta edizione che cura e traduzione di Nicola Crocetti Crocetti che poi è quello della casa editrice Crocetti che sono questi ho pubblicato tutta l'opera di Rizzo so che siete ansiosi di averne tutta l'opera e questo siete lodevoli perché ne ambite di averne il possesso e negli anni 70 Rizzo sbarcha in Italia perché poi molti greci negli anni 60 70 si rifugiarono in Italia perché l'Italia comunque è una democrazia quindi tutti questi greci che vissero fino alla fine del regime di colonnello in Italia anche a Siena mi ricordo in questi greci io il greco lo sentivo parlare continuamente noi abbiamo fatto due o tre poesie insomma tre poesie due sono su Classroom la terza ve l'ho data ve l'ho data così ha fermato la fotocopia sapete che fare fotocopia ultimamente è scuso permettetemi di fare una polemica se si deve comprare un aereo militare naturalmente il Parlamento non ha problemi in senso se costano molti milioni di euro che volete che sia si trovano molti milioni di euro se si devono fare fotocopie nelle scuole il governo sta lì a dire ma lei perché fa le fotocopie fa le fotocopie perché da della roba sì si può alcune cose le posso io ho fatti molto spesso le do ormai su Classroom però ogni tanto c'è c'è strana fotocopia o c'è strano una roba c'è strano quindi questa che vi ho dato oggi è una poesia che ho disegnato io ho alcune poesie come quella di soldati e bambole e ovviamente cartes carfitses lampres micanimata sintlipsis aniforus nicta trocchi met tus trocus doloplocies fonasum trecum punna minnis i mia epistratefsi panos tiali pios ectros pios sofilos ologura capnos defeneta tipota nato codonostesi olene allora questo è il greco moderno se un giorno farete il liceo classico chi farà il liceo classico sappia che il greco moderno con il liceo antico non c'entra una scippa è come il latino e l'italiano sì ce l'hanno delle no se uno venisse in Italia e cominciasse a parlare latino ego sum magister robertus sì si capisce però a Roma dice sì va bene però sta lingua non si parla più da duemila anni te devi aggiornare e così se andate in Grecia moderno e gli parlate in greco americo magari qualcosa capiscono però ve guardano come sì ho capito che te sta fatto al liceo classico però non c'entra niente però ve lo dico perché si sa mai io come noi quando andavamo in Grecia tentavamo nella nostra ignoranza di parlare i greci moderni come ho fatto anch'io con la lingua di Omero e questi giustamente mi guardavano con gli occhi così e quando andavamo a Roma a parlare in latino il romano è Roma che guarda sì vabbè se mi giuro è sceso è un pello ma carte però leggiamo la poesia perché il tempo si allunga carte spilli lampade strumenti di tortura salita notte ruote contro ruote macchinazioni gridano corrono dove state una mobilitazione dietro l'altra quale è il nemico quale è l'amico tutto intorno fumo non si vede niente ecco il campanile dicono dici di sì anche tu senza vederlo prendono la mira prendi la mira le donne rimangono sole lontano dentro le case senza forma senza letti fanno bambole di pezza con giacche militari forate dalle pallotte da sigarette dimenticata al momento di dormire o di morire sulla neve bambole di pezza morbide riempite con la crusca gli dipingono le mani il viso i piedi di rosso con colore con cui dipingevano le uova di pasqua le danno ai bambini per giocare quelli non giocano le appendono all'albero della corte ci fanno il tirassegno con le fionde fino a sera è la descrizione della guerra che rimanda infatti in prima media ho parlato dell'idea della guerra che ovviamente rimane come un modello comportamentale da 3.000 anni a questa parte ed è difficile ancora oggi risolvere una situazione senza pensare a guerre e armi non ce la facciamo non ce la facciamo io vi ho fatto leggere le ditte di Ashoka ma chi è che legge gli ditte di Ashoka a parte di Venturini in classe vostra penso se io l'inizio è morto quindi non lo legge neanche io niente quindi non ce la facciamo siamo sempre lì e sempre con le armi con la guerra e non ce la facciamo a trovare un accordo tra persone senza spararci in fronte l'uno con l'altro non ce la facciamo quindi questa poesia spiega tutto cioè strumenti soprattutto salite c'è queste parole slegate tra di loro che rendono la confusione di un momento di assalto forse di perquisizione di arresti eccetera e queste donne che tentano in vano di creare uno strumento le bambole e i bambini che le prendono e le usano come tirassegno perché giocando alla guerra imparano la guerra e quindi questo ciclo infernale non ha fine la poesia di Nausicaa che vi ho letto è molto più semplice lì si riprende il mito di Odisseo e ovviamente quando Odisseo se vi ricordate un po' quello che abbiamo fatto l'anno scorso quando Odissea viene sbattuto alle onde sulle coste dei feaci arriva a me nudo e Nausicaa gli dà un vestito e nel numero non è detto che Nausicaa si innamori di Ulisse nella poesia di Rizos è l'amore che sboccia tra due la scoperta dell'amore da parte di una fanciulla che quindi è il primo innamoramento quindi una descrizione molto tenera quindi in realtà i poeti greci utilizzano il mito antico come anche Cavafsi per parlare di cose moderne se leggete Itachi che non vi rifaccio ma abbiamo letto Itachi non è che parla di Ulisse che non è che sta parlando della vita dell'uomo che è un percorso che Itachi è la destinazione finale tutti noi dovremmo avere un Itachi all'orizzonte ma molti vivono come i compagni di Ulisse trasformati in maiali purtroppo non hanno perso l'idea di Itachi quando tu perdi l'idea di Itachi sei fregato sei fregato perché in quel momento hai perso tutto l'idea di Itachi che è la sola cosa che ti salva come per Rizos la sua Itachi era la poesia quindi nell'inferno di Macronissos o nell'inferno di Jaros lui aveva sempre Itachi e per questo non l'hanno piegato se si fosse dimenticato della poesia è un discorso difficile non so questa è l'ultima poesia e poi chiudiamo come abbiamo potuto con una mano di pietra riordinare la nostra casa e la nostra vita sugli stipiti delle porte c'è il fumo un anno dopo l'altro dei ceri pasquali piccole piccole croci nere tracciate dai morti al loro ritorno dalla resurrezione si fa molto amare questo paese con pazienza e fierezza ogni notte dal pozza asciutto escono con precauzione le statue e montano sugli alberi la descrizione della Pasqua la Pasqua ortodossa che ovviamente è simile alla Pasqua si dipingono le uova le croci la Pasqua Rizzo si gioca sull'idea di resurrezione che è la Pasqua e la resurrezione di Cristo ma lui immagina che i morti risorgono dalle tombe è un tema un po' pascoliano e tornino per un po' a visitare i vivi le piccole croci tracciate insomma i ricordi di quei morti tanti anni fa si fa molto amare questo paese perché non so chi è stato la Grecia di sotto chi va in Grecia non va in Laconia perché la Laconia come diceva quel mio amico di Montepulciano è una gran pietraia però è la zona che amo di più veramente la Grecia è la mia patria non patria vuota dell'Italia qualcuno mi dice che io quando dite siamo occidentali io mi sento occidentale fino ad un certo punto perché sento che dentro di me una parte di me non è totalmente occidentale c'ha qualche cosa di orientare mettiamola così non mi sento particolarmente perché c'è quindi l'attrazione anche per chi è a origini greche ma ovviamente è nato in Italia c'è un po' l'impianto di questo mondo che in parte è perduto in parte mai sarà riconquistato però quella zona lì con quegli olivi che staccano la porta delle ori che è una zona brulla che quando entri nella tomba degli atridi detta così in quel fresco in quell'ombra è qualcosa che io sebbene non ci vada più da 30 anni quindi non vado in Grecia in quella parte lì poi sono stato a Rodi dove vabbè altre cose però voglio dire quella parte lì è la parte che mi è rimasta più nel cuore perché l'ho attraversata col saccappero dormendo di notte in Grecia basta butti giù il saccappero dove dormi dormi tanto prima che piova ad agosto in Grecia dovrebbe capitare un catacrisma quindi si fa molta male questo paese questo verso è quello che volevo dire con pazienza e fedezza qualcuno mi ha detto ogni mattina dal pozzo escono con prefazione le statue e montano sugli albi questo verso delle statue che escono dai pozzi e si arrampiono sugli albi è un po' surrealista un po' strana ma è il mito antico che non si è mai completamente dimenticato nel senso che questo passato che se tu scavi in Grecia ma anche dicevo nelle terre degli etruschi basta scavare e qualcosa trovi dove sono andato io quanta cosa ho provato e quante cose sono finite nel mercato clandestino un po' sono finite a Londra a New York eccetera e e questo è a un certo punto il contadino scava e ti appare una sfinge etrusca e ti guarda e dice questa che cavolo è da dove è saltata fuori è un'esperienza che è strana è un po' strana è come se qualcosa le ciccia fuori dal passato e dice io ci sono ma ho lasciato qui tre mila anni ma io ci sono sempre stata e e devi fare i conti col passato io non so se questa spiegazione un po' inciafogliata vi abbia spiegato qualcosa ma ovviamente 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 Rizos è il poeta che con la poesia ha superato il il cortocircuito della vita nel senso che la poesia gli ha dato un senso ogni significato e lo ha reso libero libero nell'isola di Macronis Macronissos libero in un posto che se non è stato in l'area noi parliamo spesso di Primo Levi giustamente ma se Macroni protagonista non è stato in l'area di Primo Levi poco c'è mancato in inizio si ha visto errori indicibili e da questi errori indicibili il comandante è uscito da quell'inferno con la poesia è un poeta che dobbiamo ammirare per le nostre forze pure no il senso che la poesia dice la nobiltà obbligatoria non so se la poesia sia obbligatoria ma non esiste un solo popolo sulla faccia della terra che non abbia scritto poesia non c'è stato un solo popolo che abbia potuto vivere senza poesia perché come ci spiega Rizzo la poesia è quella cosa apparentemente inutile che però ti permette di sopravvivere alle peggiori terribili disgrazie che ti possono capitare quando ho un libro di Rizzo in mano e quando ho questo libro in mano mi sento come Achille invulnerabile può sembrare strano ma così è è è come dicono i greci e è niente è è